E' una bella emozione, un orgoglio per Crotone e per tutta la provincia. Diciamo che noi giovani ci stiamo dando molto da fare. E veniamo da una bellissima esperienza che è Vienna, dove abbiamo ottenuto due stand innovation con due rappresentazioni diverse. Non solo la Calabria ma tutta Italia, quindi per noi è veramente un grande orgoglio. Noi siamo la Diemus Ensemble, un gruppo di 13 maestri della provincia di Crotone. Raggruppiamo 9 comuni della provincia di Crotone, tra cui anche Crotone Città. Con musica, arte, spettacolo, eventi culturali, ci piace suonare, siamo insegnanti, oltre a essere professionisti. Per noi è veramente un grande onore, anche perché oggi per noi è la cinquantesima esibizione ed è la prima volta che suoniamo a Crotone. Sembra assurdo ma è così.